Mi voglio ricordare quando ci incontramo, quando lui entrò per la prima volta da giovane neolaureato in Tribunale a Varese, lo incontrai e lì iniziarono i nostri rapporti, la nostra amicizia, un'amicizia che è venuta prima dalla politica, ci incontravamo, parlavamo del lavoro che stavamo svolgendo, ci siamo aiutati, abbiamo collaborato, abbiamo giocato a pallone tante volte insieme e poi anche l'avventura politica che ci ha consentito di continuare questo nostro rapporto, è una persona di grandissimo valore, una persona di grandissima umanità, è una persona che sicuramente ha sempre svolto bene il suo lavoro, è una persona la quale io credo tutti, molti, soprattutto dalla mia parte, ha guardato a lui nei momenti di difficoltà perché aveva la saggezza, la lucidità, la capacità di affrontare i problemi e di dare sempre delle risposte, credo che ci mancherà tantissimo.